Ferro Cesare nasce a Torino il 18 aprile 1880. Si diplomò nel luglio del 1894 e si iscrisse all'Accademia Albertina, dove terminò gli studi nell'ottobre del 1899. Proprio in questi anni espose per la prima volta alla promotrice torinese due miniature su avorio. Nel periodo dell'Accademia fu notato da Grosso, che ne intuì le capacità e lo prese sotto la propria protezione. Già nelle prime opere si riconosce, dietro la composta rappresentazione realistica di ascendenza grossiana, una sensibilità quasi pre-raffaellita e simbolista nei tenui accordi cromatici e un accento di prezioso decorativismo. Nel 1902 inviò Piccola Fata all'Esposizione Italiana d'Arte di Pietroburgo e l'opera fu acquistata dalla Granduchessa Maria Pavlovna. Lo stesso anno realizzò Alba a Beno e nel 1903 prese parte alla Quinta Biennale di Venezia con il quadro simbolista Lattesa. Nel 1904 vinse con un ritratto una medaglia d'oro al Salon di Parigi. Ferro Cesare si spense a Torino il 15 marzo 1934. Grazie a tutti.